Sono 1965 positive test covid individuati nelle ultime 24 ore nel Lazio su 42.304 tamponi effettuati con un tasso di positività al 3,7%. Secondo i dati del Ministero della Salute, tre le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari 782, mentre i pazienti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore sono 112.